Prosegue l'impegno della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari per contrastare il traffico internazionale di stupefacenti. Negli ultimi tempi le fiamme gialle hanno rinvenuto in mare due pacchi e valigia contenenti oltre 60 kg di asci. Il primo è stato ritrovato e recuperato qualche settimana fa dai finanziari della compagnia e della sezione operativa navale di Alghero nelle acque antistanti la cosiddetta Cala Mariorino nei presi del porticciolo della città catalana. Il pesante involucro era costituito da più strati di nylon che racchiudevano un sacco di juta che era stato adeguatamente impermeabilizzato e con all'interno 300 parenti di asci per un peso complessivo di oltre 31 kg. Dopo il ritrovamento il comandante del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha rafforzato il presidio sia in mare che lungo le coste sul versante occidentale della Sardegna, una misura che ha dato i frutti sperati grazie alla professionalità dei finanzieri del comparto aeronavale e all'alta tecnologia dalle strumentazioni dei mezzi utilizzati. L'equipaggio del guardacoste G116 Laganà è intercettato e recuperato a poco più di 10 miglia a largo di Santa Caterina di Pitinuri nel comune di Cuglieri un altro involucro del tipo di quelli utilizzati per i traffici internazionali stupefacenti via mare. Una volta recuperata, i militari hanno ritrovato all'interno della valigia, perfettamente custoditi e protetti da uno spesso involucro di plastica, centinaia di panetti di asciici per un peso complessivo di oltre 30 kg. I 61 kg di stupefacenti, se messi in mercato dello spazio, avrebbero garantito ai malviventi guadagni superiore ai 600.000 euro. Proseguono senza sosta le indagini e i pattugliamenti dei mezzi delle fiamme gialle per cercare di individuare i responsabili e la provenienza dei pacchi galleggianti, ma anche per contrastare il traffico internazionale di droga, che nonostante l'emergenza sanitaria degli ultimi mesi non sente crisi e non concede tregua.